Un provvedimento di sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio per la durata di 12 mesi e di sequestro preventivo per un importo pari a 6.900 euro, emessi dal GIP del capoluogo nei confronti di un tecnico responsabile del servizio documenti catasto fabbricato dell'Agenzia delle Entrate, ufficio provinciale di L'Aquila Territorio, è stato notificato dai militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila. Il funzionario è accusato di peculato e concussione. Il provvedimento giudiziario giunge al termine di un'indagine avviata nel gennaio scorso dai finanzieri coordinati dalla locale procura della Repubblica a seguito di alcune anomalie riscontrate e segnalate dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate con riferimento a talune operazioni svolte da un proprio dipendente. Le investigazioni hanno permesso di appurare la commissione di gravi e reiterate condotte illecite da parte del responsabile del servizio catasto fabbricati dell'Agenzia delle Entrate dell'Aquila. Le indagini, condotte attraverso l'attento e capillare esame del carteggio, gestito dal funzionario infedele, anche tramite l'assunzione di testimonianze di soggetti terzi, hanno fatto inoltre emergere gravi episodi di concussione. Più in particolare è stato accertato che l'indagato aveva costretto un professionista a consegnargli nel periodo del gennaio del 2011 e anche nel novembre del 2014 la somma complessiva di 5.500 euro per la registrazione di 100 pratiche edilizie secondo un preciso tariffario che teneva conto della tipologia degli immobili da accatastare.